In questo video volevo parlarvi di quella che è stata la mia esperienza in Portogallo La luce non è il massimo, lo so Ma con l'avanti a casa oggi stanno facendo dei lavori E dal momento che ci sono veramente tutti gli operai davanti che stanno facendo i lavori Non riesco a tirar su di più la tapparella Perché altrimenti mi vedono e mi da un po' fastidio Quindi insomma, la luce sarà quella che è Ma in realtà è un video molto chiacchiericcio Quindi non importa più di tanto che mi si veda benissimo Volevo appunto parlarvi della mia esperienza, della nostra esperienza in Portogallo Io come al solito faccio questi video un po' per darvi qualche pillola Qualche informazione su quello che è stata la mia esperienza di viaggio Ovviamente non sono una veterana, non sono nata in Portogallo Non ci sono stata per sei mesi da dirvi ok, la conosco molto bene Ma vi consiglio, vi do insomma il consiglio su che cosa vedere Se volete fare una vacanza di qualche giorno Noi come al solito prima di ogni viaggio ci premuniamo di una guida Noi amiamo tantissimo le Lonely Planet Che secondo me sono il tipo di guide migliori In assoluto soprattutto se si vuole visitare un intero stato Noi abbiamo fatto un po' i furbi nel senso che abbiamo voluto prendere quella del Portogallo Anche se in realtà abbiamo visitato solo due città Ossia Porto e Lisbona Però per evitare di andare a prendere due guide singole delle due città Abbiamo preferito prendere questa qua del Portogallo E di conservarla Un po' per leggere comunque anche la storia del Portogallo Perché sono veramente fatte bene come guide Un po' per arricchire la nostra libreria E anche un pochino per tenerla nel caso in cui in futuro volessimo tornare in questa città O magari volessimo andare in qualche altro posto in Portogallo Quindi noi abbiamo deciso di andare in Portogallo Era un po' di tempo che in realtà volevamo andarci Ma ogni volta i prezzi erano veramente molto alti Quando è stato ora di decidere il viaggio a Natale e Capodanno Abbiamo deciso di optare appunto per il Portogallo Perché era da un po' che volevamo visitarlo Ci doveva la possibilità di vedere più città Quindi non vedere solo una città E di avere un tempo mite Perché dopo l'anno scorso a Praga Ho detto basta, basta posti freddi Quindi noi siamo partiti il 26 di dicembre Siamo tornati il primo di gennaio Quindi il giorno subito dopo Capodanno E abbiamo viaggiato Mi ricordo con la EasyJet E prenotando il viaggio circa un paio di mesi prima Abbiamo pagato il viaggio in aereo abbastanza Perché abbiamo pagato intorno ai 200-220 euro a testa Andata e ritorno Quindi per niente economico Però già più economico rispetto ad altre volte In cui veramente trovavamo il viaggio Già a 300-400 euro È molto caro per quanto riguarda l'aereo in Portogallo Almeno nei momenti, nei periodi in cui riusciamo ad andare noi Dopodiché abbiamo compreso la casa Due case, sempre su Airbnb Abbiamo fatto 3 giorni a Porto Quindi 2 notti e 3 giorni a Porto 4 notti e praticamente 5 giorni a Lisbona Per quanto riguarda Porto Abbiamo speso circa 75 euro Se trovo ancora il link della casa Dove siamo stati su Airbnb Ve la link qua sotto Una casa veramente molto carina L'avrete vista nei vlog Siamo stati appunto a Porto per 3 giorni Ci è piaciuta tantissimo Forse devo dire che mi è rimasta più nel cuore Porto che Lisbona Cosa assolutamente da vedere a Porto Allora, visitare è una cittadina piccolina Quindi molto romantica E molto a portata d'uomo Diciamo, si può girare tranquillamente a piedi Noi non abbiamo quasi mai preso la metro O comunque altri mezzi Perché veramente si può tranquillamente girare a piedi E l'unica cosa che insomma Sia a Porto come a Lisbona È una città con molti sali e scendi Quindi magari sulla cartina Ti sembra che da qua devi andare qui Ma in realtà la strada è tipo sali e scendi Sali e scendi Quindi, vabbè, si fa un po' di ginnastica Però assolutamente gestibilissimo Come insomma tragitti È tutto diciamo a portata d'uomo Le cose che io vi consiglio di vedere Ho preso appunti Sono la stazione di Sao Bento Che in realtà Si trova proprio in centro Vi consiglio di entrare E di ammirare proprio la hall Diciamo L'entrata Perché è totalmente tappezzata Di piastrelle decorate sul blu Molto tipiche portoghesi L'avete visto anche nel mio vlog Vi metto magari qualche foto Mentre parlo Poi vi consiglio di andare a vedere Anche il mercato Do Bolao Che è un mercato al coperto E noi purtroppo siamo andati In un giorno in cui diluviava Quindi non era insomma Così bello come ci avevano detto Però vi consiglio di farci un salto E anche sempre lì in centro Poi ci sono due cattedrali Assolutamente da visitare Una è proprio la cattedrale di Porto E l'altra è la cattedrale Sé Sono sempre veramente tutto vicino Quindi non è che sono una cosa da una parte E una dalla parte opposta Rua das Flores invece è una via molto carina Dove potete trovare anche diversi localini Ristoranti dove poter andare E poi insomma Ma quello che caratterizza Porto E' quello di essere Composta diciamo da due rive Attraversate dal rio Duro Quindi da una parte appunto C'è la città di Nevere e Prope E dall'altra parte Dove ci sono tutte le cantine Che producono Porto Quindi da una sponda all'altra Veramente vicino Cioè sono veramente vicine le due sponde Dalla parte appunto Dove c'è la città di Nevere e Prope Si vedono dall'altra parte Non si capirà niente Da cosa ho detto comunque Si vedono tutte le varie cantine Perché sono un pochino in collina Vi consiglio assolutamente di fare La degustazione di Porto Io subito ho detto No ma il Porto non piace Assolutamente non lo voglio provare In realtà mi è piaciuto tantissimo Vi consiglio veramente di andare a visitare Una cantina Per andare dall'altra parte della riva C'è il ponte Il ponte Don Luis Che è appunto il ponte Che è stato fatto O comunque progettato Dallo stesso architetto Che ha progettato la Torre Eiffel Infatti la costruzione ricorda un pochino La Torre Eiffel E si può percorrere benissimo a piedi Un'altra cosa che vi consiglio di prendere È anche la teleferica Che collega il ponte Con la fine di quella sponda Diciamo dell'altra sponda Caratteristica Insomma è abbastanza cara Però è caratteristica da prendere Carina Io ho fatto un giorno a Sintra Quindi abbiamo preso il treno da Porto E siamo andati a Sintra in giornata Allora sono sincera Vabbè era un giorno in cui il tempo non era il massimo A me non è piaciuta Sinceramente io non sprecherei un giorno Per andare a Sintra Però se magari siete tanti giorni a Porto E avete voglia di cambiare un po' Potete andare Però non lo so A me non è piaciuta tantissimo Quindi diciamo Resoconto di Porto Cod è assolutamente da fare Regustazioni di Porto Quindi andate in una di queste cantine Fanno in continuazione gite Guidate la cantina Noi in particolare abbiamo scelto di andare da Taylor's Era consigliato insomma anche su questa guida E praticamente con 5 euro a testa Ti davano 3 bicchieri di degustazione Porto Quindi vari tipi di Porto E in più ci hanno fatto girare la cantina Il giro è durato circa 40 minuti È una città molto romantica Quindi io la consiglio soprattutto alle coppie Però insomma Anche se volete andare con gli amici Con la famiglia Noi come zona Ci troviamo nella zona della stazione metro Trindade Giusto per capire un pochino È una zona molto carina Molto vicino Rimane vicino al municipio Ed è piena di viuzze Tutte piene di localini Per andare a bere qualcosa Per fare aperitivo Per cenare Veramente deliziosi Non ho trovato a Lisbona Tanti locali così carini Come invece ho visto a Porto Quindi veramente l'imbarazzo della scelta Se poi vi rimane tempo Una cosa che io avrei voluto fare Ma poi non ho fatto Era la crociera sul Duro Quindi è pieno di Insomma di traghetti Che ti portano a fare il giro Sul rio Duro Insomma che dura Non so un paio d'ore Un'ora Quindi insomma questo ve lo consiglio Poi vabbè A me anche la teleferica è piaciuta molto Dopodiché ci siamo trasferiti Col treno a Lisbona Sono circa 3 ore di treno Però molto confortevole Sembrava un treno tipo Italo-Freccia Rossa E siamo arrivati a Lisbona Lisbona è veramente più grande Quindi ovviamente Ci giravamo con la metro Facevamo l'abbonamento giornaliero Che sinceramente non mi ricordo quanto costasse Forse 5-6 euro al giorno Di alloggiare nel quartiere di Alfama O Alfama come volete chiamarlo Che è il quartiere un pochino più caratteristico Io ve lo consiglio personalmente Perché secondo me è uno dei quartieri Veramente più carini Cosa da vedere? Vabbè la Prassado Commerzio Che è la piazza dove noi abbiamo Poi trascorso la notte di Capodanno E la piazza centrale È veramente una piazza molto Molto grande Insomma colpisce veramente Poi davanti c'è il mare Quindi insomma colpisce veramente tanto Quella piazza Ci è piaciuta moltissimo Ricorda per alcuni versi Un po' Piazza Vittorio di Torino Comunque è una piazza veramente grande Credo che rientri tra le piazze europee Più grandi Insomma tra quelli esistenti Poi vi consiglio di andare anche a vedere il Miraduro E che noi abbiamo visto È sempre insomma un pochino in alto E abbiamo visto prendendo il tram 28 Che è un tram storico Che assolutamente vi consiglio di prendere Che passa in tutti questi piccolini Andando su, giù Passando veramente in via strettissime Vi consiglio ai sovani di prenderlo E di farvi su un giretto Ed è compreso sempre nell'abbonamento giornaliero Quindi non vi costa di più Siamo appena andati a vedere anche il castello di San Jorg E una cosa che vi consiglio di fare È di fare anche un giro a Belém Che di nuovo è un altro quartiere Per andarci dovete prendere un pullman Perché non arriva la metro Ma ne vale veramente la pena Anche lì il castello è da visitare E è assolutamente da vedere la torre di Belém Una delle cose veramente più belle che abbiamo visto Anche per fare le foto È un posto veramente stupendo E lì c'è anche la famosissima pasticceria Pastéis de Belém Che vende appunto Ci sono core chilometriche fuori Queste pasticcini Con crema pasticcera e pasta sfoglia Che sono molto caratteristici in Portogallo Siamo poi Per quanto riguarda lo shopping Non è che ci siano molte cose da comprare Infatti non ho comprato quasi nulla Però sia Porto che a Lisbona Sono presenti alcuni centri commerciali Noi siamo andati una sera così a fare un giro Io ero curiosa più che altro perché c'era Primark E insomma volevo fare un giretto Quindi ho comprato qualcosina lì Però per il resto mi sono più dedicata Al giro della città Anche a Lisbona è pieno di localini carini Quindi insomma informatevi Guardando su TripAdvisor Noi in entrambe le case Avevamo il wifi gratuito Quindi la sera guardavamo su TripAdvisor Dove poter andare a mangiare In realtà molti ristoranti erano pieni Quindi arrivavamo e non c'era posto Però magari prenotavamo da una sera all'altra A chi piacciono i dolci È pieno di cose buonissime Di pasticcini, pasticcerie Sono pieni di cornetti Brioche, tortine varie E tutto costa veramente poco La vita in Portogallo costa proprio poco Mangiare costa pochissimo Noi prenotavamo mediamente Con 10 euro 12 euro in due Ma mangiando bene E la cena un pochino di più Però secondo me insomma Si possono trovare prezzi buoni Quindi in chiudendo diciamo le fila In Portogallo mi è piaciuto tantissimo Ci è piaciuto Anche il mio fidanzato è piaciuto molto Il clima era veramente molto mite Appunto siamo stati dopo Natale Sono andata col piumino Ma mi sono pentita Perché avrei potuto benissimo andare col cappotto Perché faceva caldo Insomma si stava proprio bene E appunto insomma Per varie varie cose Forse tra le due città Mi è piaciuta più Porto Ho trovato molto molto caratteristico Questa cosa della degustazione del Porto Una città molto più piccolina L'ho trovata una città molto molto romantica Nulla Io se trovo comunque i link Delle due case in cui siamo state Ve le metto qua sotto nell'info box Se volete mandarmi delle mail Per chiedermi informazioni di qualsiasi tipo Io vi lascio la mia mail sempre qua sotto Quindi sono a disposizione per qualsiasi cosa Durante questo video Magari anche al fondo Vi metto qualche foto E vi lascio anche i link Dei vlog che ho girato in Portogallo Nulla Quindi ci vediamo con il prossimo video Un bacio Ciao Ciao